siamo di nuovo live quindi buonasera a chi non abbiamo salutato in precedenza sono sempre qui con Luca che gentilmente ci ha dato questa opportunità di riazzerare un attimo le carte in tavola quindi buonasera Luca grazie ancora per essere con noi grazie a voi, grazie per l'invito è un piacere allora diciamo sempre alle persone un attimo la possibilità di ricollegarsi abbiamo fatto un po' i ballerini quindi ora sto vedendo che gli amici si stanno ricominciando ad aggiungere, potete scriverci sempre qui nei commenti le domande che volete fare a Luca io vi ricordo le buone maniere quindi se volete darci una mano a superare anche i problemi di connessione nella live lasciate un like, condividete il video così che aiutiamo a spread a diffondere il karate nel globo prima abbiamo visto che siamo arrivati in Kuwait e in Svizzera ma non ci fermiamo qua vogliamo conquistare tutto il mondo per cui se ci volete dare una mano condividete la diretta o commentate e lasciate like siamo 19 online e non vedo 19 reazioni 19 like quindi questa cosa non mi va molto bene se poi volete vedere gli highlights o seguire le notizie di pillole di karate che diamo tutti i giorni ci potete seguire su Instagram sempre l'account karateka.it e chiaramente sul blog dove ogni settimana escono nuovi articoli e sul quale appunto approfondiamo ogni aspetto del karate che è appunto karateka.it saluto i nuovi primi amici che si sono aggiunti quindi Briciola, Giulia, Elisabetta, Giorgio ciao a tutti voi grazie per essere tornati in questa live che era cominciata con una bella domanda visto che ho detto che karateka parla trasversalmente a tutti i karateka a questo giro posso dire anche del mondo perché siamo arrivati veramente a tutte le parti del mondo e per iniziare penso non ci sia domanda migliore se non chiedere a Luca appunto di descrivere chi è Luca Valdesi in qualche riga o in qualche minuto eccoci qua saluto anch'io tutti gli amici che si connettono come dicevo prima io mi definisco un karateka nel senso fatto per tutta la vita questa disciplina questo sport che poi mi ha preso anche sotto l'aspetto lavorativo nel senso per me poi è diventato una professione come dicevo prima ho cominciato karate per il gusto di fare karate non era usuale pensare alle gare o immaginare di fare una gara prima di almeno 5-6 anni di pratica ovvero quando il livello tecnico fosse tale da permetterci di gareggiare certo in 82 83 le prime gare le ho fatte nel 95 quindi dopo aver no scusami nel 1990 nel 90 ho sempre fatto karate con mio padre più o meno abbiamo intrapreso assieme il percorso delle gare perché eravamo un po' curiosi appunto di uscire da quello che era il contesto del nostro allenamento in palestra abbiamo cominciato a divertirci e da lì è stato un susseguirsi di viaggi di esperienza e spesso anche di vittorie che mi hanno permesso poi di diventare ecco l'ultimo tempi che adesso conoscete un po' tutti assolutamente assolutamente parlavamo tra l'altro con Vincenzo l'altra l'altra settimana ricordando un po' anche la la mitica squadra che che è nei nostri cuori e che è passata veramente alla leggenda per il numero di titoli che ha che ha conquistato sul fatto che un termine a cui lui è molto affezionato e dice anche di aver imparato molto proprio grazie all'esperienza di squadra e grazie anche a te a Maurino è il termine resilienza quindi un termine che per i karateka calza calza pennello ma che anche nelle gare quando magari all'inizio non arrivano subito i risultati sperati può fare la differenza tra un campione e qualcuno che invece molla subito tu che ne pensi al riguardo sicuramente il karate io l'ho sempre riconosciuto una grande scuola di vita in generale non soltanto nell'aspetto agonistico ma proprio personalmente mi ha mi ha insegnato tanto mi ha dato tanto perché anche il rispetto che magari adesso è un po' meno accentuato un po' meno si percepisce un po' meno all'interno del dojo rispetto a quello che era quando ho cominciato io e quella mi ha formato io ho cominciato perché avevo sei anni quindi ero un bambino penso che abbia formato il mio carattere anche per quello che è la vita relazionale tutti i giorni non soltanto un palestra quindi sì è vero andare avanti saper superare l'ostacolo però lo inserirei in un contesto molto più ampio che parte ancora prima da quelli che sono proprio i valori del karate che sono a mio avviso quelli che dovremmo applicare tutti i giorni nella vita di tutti i giorni non soltanto i valori dello sport dove mai mollare mai lasciarsi abbattere cercare di insuperare i limiti alzare la sticella tutto vero però questo lo si capisce meglio dal mio punto di vista quando la base quando la base della piramide è più ampia quando ci sono anche altri valori che sono pronti a sorreggere a spingere poi questa che diventa la punta di un iceberg come dicevo prima per me al momento l'80% della mia avventura nel karate è stata dedicata alle gare però ritengo che le gare siano soltanto una parte del karate un aspetto che è stato vissuto al massimo a pieno perché io sono solito fare così cerco di fare al massimo tutto quello che faccio che però adesso ha avuto un inizio ha avuto una fine e ha avuto un'evoluzione perché finire la gara non vuol dire smettere di fare karate ovviamente mi sono perso hai detto hai avuto un'evoluzione mi sono perso l'ultimo l'ultima frase è andata un po' via la voce dicevo terminare finire le gare non vuol dire smettere con karate vuol dire passare ad altro oggi mi viene anche da dire che in periodi come questi avere un aspetto più ampio all'interno del quale applicare quello che impariamo nel dojo sicuramente dà anche forza perché comunque in periodi come abbiamo vissuto quello del lockdown dove tutti ci siamo dovuti reinventare sotto ogni punto di vista ma anche oggi dove ci sono regole ferre che servono anche e soprattutto per la nostra salute avere una autodisciplina un autocontrollo un senso del rispetto dell'altro che penso senza paura di smentita di poter dire che è comunque un po' alla base di tutta la filosofia marziale ma qui appunto chiedo a te che sicuramente mi puoi insegnare su questo certamente da una mano anche in periodi di non estrema libertà diciamo come come questi dove dobbiamo pensare prima forse anche agli altri che hanno i stessi che ne pensi? sicuramente c'è un cambio della prospettiva proprio nella nostra vita in questo periodo è chiaro che una sorta di allenamento a quelle che sono le arti marziali come dicevamo a quei valori a quel rispetto come hai giustamente detto tu è chiaro che ti pone in una situazione di poter affrontare meglio determinate situazioni non vorrei entrare sul discorso proprio del lockdown e delle situazioni perché è chiaro che ognuno vive in maniera diversa questo questo momento di tra virgolette privazione o comunque di limitazione e ritengo che anche il contesto nel quale poi si sviluppa questa situazione possa far variare lo stato emotivo di ognuno quindi non è soltanto come siamo in grado di affrontare noi ma dobbiamo inserirci in un contesto che è quello familiare prima quello della società dove ci troviamo dopo e diventa ecco molto soggettivo certo assolutamente ci chiede intanto Massimo Marcozzi che saluto se quanto ti manca il clima il clima di gara della preparazione della competizione anche se comunque ci hai detto che per te è sempre stato il fare il karateka la cosa la cosa importante è vero è vero però devo rispondere a Massimo che saluto affettosamente che quello forse è l'unico aspetto che un po' mi manca perché lavorare per una gara comunque ti dà uno stimolo diverso rispetto a lavorare per te stesso è vero che tante volte non si ha il tempo di rendersi conto di concentrarsi su degli aspetti profondi di se stessi però questa pressione messa dalla gara o l'adrenalina che c'è negli attimi precedenti antecedenti proprio all'ingresso sulla materassina o anche il fatto come abbiamo già accennato di spingere l'assicello ogni giorno più su è specifico della gara io penso che l'allenamento di karate sia una cosa un po' diversa dalla preparazione di gara assolutamente e appunto perciò mi faceva piacere parlare con te di un progetto che hai lanciato che è un academy virtuale che è un progetto sinceramente molto interessante non solo per i tempi che non solo per i tempi che corrono ma penso proprio anche per l'approccio che stai cercando di dare con una lontana vicinanza mi verrebbe da dire perché ho letto appunto che i ragazzi o gli atleti o chiunque può mandarti il proprio proprio da rivedere ci sono tante iniziative che non si fermano soltanto al seminario frontale diciamo a distanza quindi mi piaceva sapere un po' come hai iniziato a pensare a questa avventura digitale e quali sono gli obiettivi di questa iniziativa beh premetto dicendo che l'idea di creare un'accademia valdesi era in cantiere già da diverso tempo ho la fortuna e la possibilità di viaggiare tanto per il mondo per fare seminari di karate sono a contatto con tante realtà diverse la domanda comune è sempre stata quella di poter aderire a un progetto a un'idea a una scuola valdesi cercare di seguire un filo conduttore giusto prima del lockdown ero lì per aprire questa accademia avevamo già preparato tutti i documenti e dopodiché c'è stato il blocco totale questo blocco totale ha bloccato anche la mia iniziativa di creare un'accademia fisica potremmo dire basata su una serie di impegni avevo già fissato delle date fra Svizzera Belgio Venezuela un po' in giro per il mondo appunto per portare questa accademia e per avere quindi una continuità di lavoro quando le cose sono cambiate a causa della pandemia l'idea è stata messa un po' da parte ho avuto l'idea di fare una gara virtuale per cercare di dare una mano perché la prima karate challenge si chiamava questa sfida nel mondo del karate è stata fatta a scopo benefico ovvero tutto quello che è stato raccolto dalle iscrizioni è stato dato alla protezione civile abbiamo fatto un bonifico alla protezione civile da lì mi sono arrivato un sacco di richieste di poter fare delle gare tramite web il kata si presta bene a essere valutato anche attraverso uno schermo e quindi mi è venuta l'idea di fare questo circuito di gare insieme ad una serie di amici ho la fortuna di avere come amici i più grandi campioni di kata al mondo e quindi ci siamo messi ad arbitrare noi abbiamo pensato io personalmente ho pensato quanto mi sarebbe piaciuto all'epoca essere valutato dal campione del mondo è certo è certo per gli arbitri però gli arbitri lo fanno sempre noi potevamo in questo momento particolare cercare il nostro aiuto personale e quindi la seconda gara è stata valutata da otto campioni di katafra campioni del mondo campioni asiatici campioni sudamericani c'era Diaz c'era Kintero c'era il Shawi dell'Egitto campione africano c'era Romanov dall'Azerbaijan c'è stata la battaglia la nostra campionessa mondiale comunque abbiamo avuto un pannello arbitrale diciamo molto molto qualificato direi direi assolutamente dopodiché terminata questa fase dedicata alle competizioni ho ripreso il progetto Accademia e ho pensato che come si facevano le gare si poteva comunque dare un supporto un aiuto un contributo anche continuando l'idea della dello stile valdesi della scuola valdesi attraverso il web e così è nata la valdesi Karate Academy sul web abbiamo diversi paesi già iscritti abbiamo anche dei referenti internazionali in Macedonia sempre in Venezuela e al momento ci siamo fermati perché ci auguravamo di poter riprendere con un discorso dal vivo però dobbiamo capire come evolverà nuovamente la situazione con questa seconda andata e l'Accademia dà appunto questo come dicevi giustamente tu non è soltanto uno stage live una lezione dal vivo frontale ma alternando a queste lezioni dal vivo metto dei tutorials che avranno una difficoltà che hanno già una difficoltà graduale per cercare di spiegare qual è il punto di vista delle cose più importanti cose ritengo più importanti per migliorare appunto il livello tecnico del karate e quindi metto online questi tutorials di difficoltà crescente la gente può rifarli nel proprio dojo o anche perché abbiamo attraversato ecco certo certo anche perché sebbene siano difficoltà crescente un qualcosa che mi sono trovato a parlare molte volte sia con Viviana Bottaro Mattia e gli altri atleti di di Kata è proprio il fatto che le basi i fondamentali nel Kata più che mai anche in maniera maniacale non si abbandonano non si abbandonano mai quindi comunque anche un tutorial che può essere base in realtà poi tanto base non è perché rappresenta il fondamento poi di quello che è la tecnica quindi in questo senso ti vorrei chiedere a un bambino che inizia oggi un bambino diciamo un ragazzo che ha 10 13 anni vuole iniziare un po' a specializzarsi in una delle due specialità sportive del karate quindi nel Kata sportivo o nel comité sportivo quale sarebbe il primo il primo consiglio che gli direbbe Luca Valdesi oggi come oggi sicuramente dedicatevi al Kata che è l'elemento individuale non avete problemi con le restrizioni della normativa del nuovo del PCM è un po' più facile sì sì assolutamente lì non c'è contatto quindi siamo tranquilli adesso a parte la battuta è chiaro che bisogna bisogna sempre capire quali sono le attitudini del ragazzo perché io penso che per prima cosa in un ragazzo appunto soprattutto di 10 anni 11 anni l'aspetto motivazionale quindi ludico e divertente deve essere fondamentale cioè il ragazzino deve essere contento di venire in palestra e venire a divertirsi quindi è chiaro che se un ragazzino piacerebbe fare combattimento perché ha un'estrosità tale che costringerlo a fare Kata diventerebbe contropoduttivo e quindi bisogna sempre valutare qual è l'attitudine che è personalmente credo che la base del Kion in generale del Kata non vada mai mai dimenticata perché la bellezza del nostro sport è quella di avere una difficoltà tecnica molto elevata noi ci differenziamo da altri sport da combattimento proprio per la precisione della tecnica ma se questa tecnica non l'abbiamo mai allenata perché ci siamo subito specializzati a fare l'incontro sulla tattica o sul tempo o sulla distanza ecco che ci manca ci manca un tassello secondo me certo assolutamente senti intanto ti mando i saluti di Luigi che che ci segue e che quindi ti saluta e noi chiaramente ricambiamo come sempre Alessandro Poerio ti fa una domanda interessante proprio perché secondo me l'hai già in parte affrontata ma questo è un aspetto un po' particolare anche abbastanza gustoso superato il tempo dell'agonismo si volge un tantino lo sguardo diciamo a un karate più tradizionale l'aspetto agonistico ti condizionerà per tutta la vita per quanto io ho capito tradizionale però non è diciamo un termine che mi piaccia tantissimo nel senso penso che sia tutto karate chiaramente si deve fare la differenza tra un karate agonistico e un karate più introspettivo appunto più per l'arte marziale di per sé però credo che sia arrivato a tutti la differenza che voleva far cogliere Alessandro tu in questo senso come è stato per te e cosa ne pensi innanzitutto vorrei salutare nuovamente Gigi perché mi fa veramente piacere che sia connesso oggi e gli faccio tanti auguri perché si è sposato da poco e quindi non avevo ancora avuto modo di farglieli così diciamo in maniera ufficiale recuperiamo su Karateka recuperiamo stasera su Karateka la domanda è molto interessante diciamo che finito l'agonismo come un po' accennato prima si ha più tempo di esposizione ho detto prima che la gara un po' ti pressa e se da un lato la scarica ormonale è piacevole perché ti costringe ad andare veloce quando termina l'agonismo si ha più tempo si ha più tempo significa che c'è la possibilità di approfondire degli aspetti che per forza di cose sono stati un po' trascurati durante la fase agonistica è chiaro che in questa fase della mia vita riesco a fare un Karate che ovviamente non è più finalizzata a quella che è la competizione quindi mi permette sicuramente di spaziare di più su altri aspetti che possono essere la difesa personale o lo studio magari del del combattimento inteso appunto come realizzazione delle tecniche affettuate a vuoto e d'altro canto c'è da dire che l'agonismo ti resta dentro vuol dire che quell'idea di allenarsi sempre al massimo che viene sviluppata in maniera esasperata durante la fase dell'agonismo ti resta dentro io oggi quando faccio un allenamento tra virgolette normale ovvero un Karate di studio mi sembra di essermi allenato poco mi sembra di aver fatto veramente poco a livello fisico è chiaro che oggi ho quasi 45 anni non potrei più spingere come facevo una volta ecco quantomeno non per tutto quel tempo di fila però quella quell'idea di dover allenarsi con delle intensità sempre massimali ti resta quindi diciamo si cerca di portare il buono ma è tutto buono però diciamo la motivazione la costanza la parte fisica dall'agonismo per poi ampliare quella introspettiva che chiaramente se prima si pensa più allo sport dopo con il tempo maggiore a disposizione possiamo pensare anche a guardarci più dentro giusto? assolutamente assolutamente non c'è più quella premura di dover finire un katà perché bisogna vedere l'altro perché dopo una settimana si parte per la gara il katà magari può aspettare un attimo l'analisi introspettiva sicuramente è più profonda è più completa c'è più tempo per farlo tutto lì è una questione di tempo alla fine io mi ricordo il calendario degli ultimi anni non c'era il tempo di cambiare la valigia a casa che si ripartiva per un'altra gara e lì è veramente difficile pensare di poter fare un karate completo lì ti prepari per una gara è un'altra cosa certo certo sulla gara sull'agonismo Cosimo Margheri ci chiede come ritieni il livello tecnico agonistico italiano ad oggi sia nel katà sia nel comitè io mi permetto da dire noi abbiamo atleti già alle olimpiadi da una parte e dall'altra quindi ti do una piccola risposta mia a Cosimo ma voleva sentire la tua ed è giusto che quindi sia tu a rispondergli cosa ne pensi del livello tecnico italiano pienamente d'accordo con te nel senso abbiamo veramente dei grandissimi atleti grandissimi campioni che tutto il mondo ci inviglia è chiaro che si può sempre migliorare è chiaro che si può fare di più è chiaro che potremmo portarne no qualcuno in più probabilmente no perché noi tendiamo a a coprire tutte le categorie a livello olimpico è chiaro che sarebbe bello vincere tutte le medaglie d'oro in tutte le categorie al mondiale però questo anche le altre nazioni vorrebbero fare la stessa cosa vorrebbero lo stesso ma noi chiaramente ti fiamo per la nostra e ti voglio lanciare una piccola riflessione che portiamo avanti un po' da tempo su Karateka e quando abbiamo l'occasione ci piace ritirarla fuori sul fatto un po' di questo effetto boomerang secondo me del grande livello che c'è in Italia perché in Italia a mio avviso non è solo il livello delle star cioè non è solo il livello massimo ad essere molto alto ma anche il livello medio ad essere molto buono e questo purtroppo a volte scoraggia quegli atleti che magari in altri sport che non prevedono soltanto la lega di A ma diciamo ci sono anche leghe non minori per importanza ma insomma per dare una dimensione al livello dove puoi competere ecco questo magari un po' manca perché mi immagino di andare a fare gli italiani ok quindi esco poco fuori dalla mia regione e mi trovo i campioni i campioni mondiali dove magari io potrei avere una lega di chiamiamola serie B che è la mia dimensione perché mi alleno tre volte a settimana e non cinque volte al giorno dove non sono professionista ma voglio comunque fare dell'agonismo che penso che sia tutto sommato tutto sommato lecito quindi tu vedresti possibile una diciamo una serie B nelle nelle gare dove l'accesso è limitato a chi magari non fa Premier League non fa e quindi rimette anche un po' in gioco chi invece io vedo anche io per primo a 16 anni ho sostanzialmente smesso di fare agonismo perché in Toscana c'erano atleti molto forti quindi non riuscivi nemmeno a divertirti ecco perché andavi già alle gare pensando di fare uno o due turni massimi certo lo capisco bisognerebbe strutturarla bene nel senso sicuramente potrebbe essere una proposta interessante non ti nego che qualcosa di simile l'ho proposto io oggi faccio parte del della commissione mondiale dei regolamenti e della commissione tecnica europea non ti nego che questa discussione è venuta fuori già sulle gare esistenti è stato proposto più volte anche da altri membri non soltanto da me di fare una divisione fra le Premier League e le Serie A in maniera che ci sia una divisione proprio di livello in base al ranking VKF la stessa cosa potrebbe essere applicata in tutte le nazioni dall'altro canto c'è da dire che con la globalizzazione che abbiamo oggi oggi magari costa di più per un siciliano prendere l'aereo e arrivare da Palermo a Roma piuttosto che fare un Palermo Parigi o un Palermo non so Vienna con questi voli low cost se noi guardiamo il calendario mondiale o andiamo a vedere magari sui portali dedicati quante gare ci sono ogni settimana nei diversi punti anche non troppo difficili da raggiungere e ci rendiamo conto che quindi alcune gare hanno un livello un tasso tecnico un po' più basso ecco chi ha la possibilità un consiglio che potrei dare chi ha la possibilità cerchi di fare esperienza all'estero visto che in Italia appunto spesso si tratta di fare uno o due prove e poi andare a casa perché il livello è molto alto e cercare di aumentare il proprio bagaglio con l'esperienza fatta all'estero magari non in una Premier League dove adesso è pure impossibile accedere quasi non in una Serie A ma in una gara magari organizzata da una federazione o da un'organizzazione privata che permette di poter dimostrare il proprio valore a tutti i livelli certo assolutamente salutiamo salutiamo vorrei salutare Alessandra Alessandra Giorgi che Alessandra Giorgi buonasera Alessandra ti devo mandare ciao Alessandra benvenuta e e Sasha Pezzino ti chiede invece va più sul tecnico e ti vuole chiedere in merito alla libera interpretazione da parte di alcuni atleti di alcuni katak quindi cosa ne pensi tu quando viene aggiunto diciamo un tocco personale lui dice addirittura a volte hai visto cambio di tecniche codificate o cambi di ritmo quindi cosa ne pensi un po' della personalizzazione nell'esecuzione tecnico-ritmica dei katak quanto fino a quanto è giusta fino a quanto ci si può spingere se invece secondo te anche proprio per combattere tutti sullo stesso piano si dovrebbero cercare di limitare queste queste libere interpretazioni che ne pensi allora innanzitutto vorrei salutare mia bianna che si conosce pure lei che è una volta scusa ah è certo volevo salutarla personalmente poi saluto Sasha che è un ragazzo che ha cominciato a fare katà un paio di anni karate scusate un paio di anni prima di me qui a Palermo abbiamo fatto anche un paio di anni assieme nella stessa palestra quindi conosco benissimo poi lui purtroppo ha deviato verso lo shitoriu e quindi ma questo tanti anni fa lui già veniva dall'ushitoriu sinceramente cosa dico sono un po' combattuto fra la risposta diplomatica e quello che credo io realmente perché io sono molto quadrato tradizionalista credo che prima di arrivare a interpretare liberamente un katà passi parecchio tempo perché l'interpretazione è una cosa difficile bisogna comprenderla innanzitutto non bisogna cambiare un katà perché è più facile fare una cosa o più spettacolare fare un'altra cosa l'interpretazione deriva da una comprensione profonda del significato di quello che stai facendo allora tu hai un certo tipo di fisico hai un'idea di combattimento hai un'idea di come poter realizzare delle tecniche e quindi cerchi di adattare quello che è un katà che è fortemente codificato che lascia poco spazio alla libera interpretazione in realtà a differenza di quello che si vede oggi nelle gare il katà è nato in un modo e dovrebbe restare quello quindi tu fai questa modifica di questo esercizio vogliamo chiamarlo in maniera oceana codificato e dovresti essere in grado di eseguirlo in quella maniera cioè dovresti adattare il tuo corpo a quel tipo di combattimento poi ripeto quando la tua conoscenza tecnica è talmente grande sei talmente sicuro delle tue potenzialità delle tue tecniche e allora ti rendi conto che una piccola personalizzazione ti permette di essere più efficace allora che ben venga questo tipo di cambiamento purtroppo quello che io ho visto tante volte in gara è quello di cambiare il katà perché è più scenografico perché è più facile perché è più spettacolare e su questo non sono tanto d'accordo ma il problema non è italiano penso che sia più un problema mondiale perché abbiamo visto che si sono imposti ultimamente degli stili che io personalmente non conoscevo fino a dieci anni fa sono diventati degli stili erano delle scuole sono diventati degli stili a tutti gli effetti e sono diventati paritetici con quelli che io ritenevo essere i veri stili tradizionali nella mia ignoranza probabilmente ma no più che altro c'è sicuramente il mondo è sempre in evoluzione quindi la novità è dietro l'angolo mi piace molto l'idea che quindi in sostanza non è tanto la modifica di per sé che è giusto o sbagliata è la motivazione la razza che ci sta dietro perché una modifica può essere spettacolare ma dovuta all'idea di applicazione e quindi in quel caso giustamente è una razza giustificata anche proprio dall'applicazione del cata stesso che non ci dimentichiamo che appunto è un'idea di combattimento piuttosto che è fatta giusto per abbellimento in quel caso si snatura forse non soltanto l'esibizione del cata non l'esibizione l'interpretazione del cata quanto anche proprio cosa vuol dire cata di per sé quindi la forma che io vado a fare è puramente inventata non deriva da un gesto realmente applicabile giusto non so se mi sono se mi sono spiegato bene o intortato un attimo assolutamente assolutamente non parliamo proprio di non essere applicabile o essere inventata parliamo di diversificazione proprio nel la differenza è minima la differenza tra fare molto male e riuscire a uccidere con un pugno sono 15-20 anni di allenamento specifico ecco è come che deve fare i 100 metri fra i 10 secondi e i 50 e neanche mezzo secondo circa mezzo secondo però ci vogliono tanti anni di allenamento per fare eh sì eh sì per arrivare a quei decimi di secondo ti saluta intanto Sofia Mangano che sta partecipando al torneo di Ekarate Under 8 su Sport Data prima del ranking e ti chiede se organizzerai un altro torneo inserendo anche la sua categoria questi bambini li facciamo gareggiare online che ne pensi Luca? allora io al momento non ho non ho un programma l'organizzazione sembra una stupidaggine però la prima l'ho fatta tutta da solo ed è stato veramente un massacro un massacro ecce n'era un massacro un massacro e dal secondo e turnament in poi mi sono avvalsa della grande professionalità di Sport Data e quindi la gestione del database dei sorteggi dell'accoppiamento di vari arbitri perché poi è stato tutto sorteggiato ovviamente è stata gestita da loro anche così come il caricamento dei video quindi il nostro compito è stato piuttosto lungo perché gli arbitri avevano soltanto 7 o 8 credo e avevamo tante categorie però si limitava soltanto a quella di valutare una performance guardata sul video come ho detto non credo a breve di organizzare un'altra gara anderotto è veramente tosta veramente difficile allora diciamo Sofì di avere un pochino di pazienza che il tempo è dalla sua parte e che già tra poco può trovare sfogo in tante altre gare e speriamo insomma che magari un giorno ci sia ci sia lei nelle Karate Talks perché sicuramente la intervisteremo sempre molto volentieri perché siamo aperti tutti i Karateca ma visto che le Karate Talks in particolare sono dedicate a chi raggiunge magari dei risultati sportivi di rilievo glielo diamo ecco come augurio che pensi che possa essere magari tra qualche anno al di là della telecamera intanto facciamole i complimenti perché è prima nel ranking della sua categoria intanto complimenti Certo Certo Sofia che tra l'altro ci segue la seguiamo anche noi su Instagram e vattela a vedere Luca perché ha dei caratteri molto molto interessanti è molto precisa parla tanto di Karate anche sul suo profilo e quindi fa sempre bene ed è sempre bello vedere ci sentiamo un po' come se fosse la passione tramandata quindi se ci sono tanti bambini che già a 8 o anzi under 8 sono così appassionati di Karate non ci fa altro che piacere io personalmente ho iniziato a 5 anni quindi capisco insomma quel fuoco e spero sicuramente non si spenga non si spenga col tempo ci stanno arrivando altre altre domande allora quest'anno è mancato Massimo Marcozzi ci dice che quest'anno è mancato parecchio l'appuntamento con la Sicilia come come vedi quali pezzi siano i tempi per ristorare magari lo stage allora purtroppo non sappiamo non sappiamo come si evolverà la situazione questo è il problema con il grande Davide Benetello stiamo valutando l'idea di di poter organizzare la sessione estiva la sessione invernale di Karate Relax il prossimo gennaio ma toccherà vedere in altri mesi cosa succede ovviamente ci auguriamo tutti che da un giorno all'altro il telegiornale ci dica siamo tutti a contagio zero e quindi siamo come si sentiva assolutamente quindi Massimo appena possibile vogliamo vogliamo tutti insieme in Sicilia e ristoriamo lo lo stage che giustamente manca come evento del Karate negli appuntamenti negli appuntamenti siculi prima di lasciarti ti volevo fare una una domanda personale visto che io vi seguivo tanto nella nella squadra e poi ho avuto la fortuna con le Karate Talks di entrare in contatto anche con le altre squadre con le squadre con le squadre moderne che rispetto a voi hanno il vantaggio magari di avere più mezzi di comunicazione anche per far vedere quello che fanno o quello che non fanno hanno più modo anche di far passare il Karate perché diciamocelo Karateka nasce anche da una necessità di non avere secondo me sufficienti luci di ribalta su i Karateka e sul Karate in generale quindi diciamo un po' la nostra missione vorrebbe essere quella di arrivare a più persone possibile è chiaro che magari però con YouTube con i social eccetera è più facile un po' più facile far vedere quello che si fa oggi rispetto a prima ma quanto è difficile o più facile lavorare in squadra specialmente in una disciplina come quella del Katà dove tanti passaggi devi andare proprio a senso cioè non puoi vedere chi ti è dietro quando fai una rotazione deve essere perfetta eccetera eccetera tu che sei stato in una squadra leggendaria per l'Italia del Karate cosa vi portava cosa vi faceva essere così perfetti sempre qual è il segreto della squadra oggi oggi avete smesso di gareggiare a meno che non vogliate ricominciare ce lo puoi rivelare qual è stato il vostro segreto guarda non c'è stato credo nessun segreto si è trattato soltanto di tonnellate tonnellate di lavoro ore 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 provare riprovare è detto bene a un certo punto la squadra non si guarda più la squadra si percepisce si sente si ha proprio la sensazione del movimento che deriva dai compagni e questo si acquisisce soltanto con la ripetizione c'è poco da fare non ci sono segreti non ci sono scorciatoie bisogna lavorare bisogna lavorare anche quando uno pensa di aver fatto bene ti dirò una cosa io da poco ho lavorato da poco prima del lockdown ho lavorato con una squadra che si sta formando abbiamo fatto quello che io ritenevo il riscaldamento è finito il riscaldamento la prima ora e mezza mi hanno salutato mi hanno ringraziato per il mio tempo e che ho detto guardate che adesso dobbiamo cominciare a lavorare cioè quello era la fase di preparazione non era quello il lavoro ok quindi bisogna capirlo questo non basta per i ragazzini che vengono in palestra per divertirsi per imparare a capire cos'è il karate ma preparare una squadra è difficile ed è soprattutto lungo lungo significa che devo dedicare tanto tempo non basta essere intelligente perché adesso dico vabbè io l'ho capito so come si fa come lo studio vabbè questo l'ho capito io sono intelligente ci arrivo subito ho seguito la scelta sì verissimo però poi a casa devi fare i compiti devi studiare per fare una gara a squadra bisogna studiare tanto poi ritornando a quello che hai detto all'inizio io vorrei fare una mia precisazione quando facevo le gare non avrei mai voluto mettere il mio allenamento online ma il mio allenamento era il mio segreto io ero convinto che il mio allenamento mi potesse portare a migliorare a fare meglio degli altri non avrei mai potuto condividerlo e infatti per i primi anni lo so io poi quando comincio a fare gli stage allora sì magari i seminari in giro ma lì hai un vantaggio di dieci anni quindi anche se quando vado in giro dico quali sono secondo me gli allenamenti migliori ora ho smesso di fare gare ma quando ho cominciato a fare i seminari comunque ho dieci anni di lavoro e credendo fortemente nel lavoro ero avanti di dieci anni perché non bastava sapere il meglio e cercava lavorare per tantissime ore il monte ore che aiuta il monte ore quindi abbiamo abbiamo capito che il vero segreto ce l'avevamo tutti sotto gli occhi però il problema è che quando te lo dicono poi non hai più scuse quindi ora siamo tutti con le spalle al muro e dobbiamo iniziare a faticare più ore più ore più ore più ore io con questo che spero sia un augurio anche per me perché io lo dico sempre sto provando a ricominciare ma lavori cose eccetera sono in realtà poi alla fine scuse diciamo se uno poi le cose le vuole fare le fa quindi spronato anche dal tuo consiglio sicuramente mi rimetterò il ghi il prima il prima possibile io ti ringrazio ti ringrazio per il tuo tempo Luca prima di salutarti vorrei ringraziare tutti i nostri amici che ci hanno seguito da tutte le parti del mondo stasera e se vi siete persi la live tra pochi secondi sarà disponibile subito su facebook e ve la potete rivedere dall'inizio potete metterla in stop per andare a prendere i popcorn o quello che preferite da domani la trovate anche su youtube con qualche pillolina su instagram se non ci seguite ancora fatelo subito andate su instagram sia nostro sia quello di Luca così che potete carpire il suo segreto lo sappiamo lo sappiamo già ma quindi come iniziare a allenarsi e tutte le novità su quelle che sono le bellissime iniziative che Luca porta avanti io vi ringrazio ancora per essere stati con noi saluto Luca Valdesi grazie per essere stato con noi Luca grazie a voi è stato un piacere in bocca al lupo e ci sentiamo in bocca al lupo certamente a tutti a tutti Karateka io ti dico che qui come ho detto anche abbiamo avuto poi il piacere in passato di sentire sia anche di essere con Lucio e con Vincenzo qui chiedono a gran voce un'intervista tripla con la squadra quindi se poi avrete modo in mezzo a tutti i vostri impegni una sera ci possiamo trovare e possiamo fare sicuramente un bel confronto quindi questo lo dico diciamo lanciando il sasso e nascondendo la mano io per adesso vi saluto vi auguro una buona serata e alla prossima puntata con Karate Talks ciao buona serata ciao a tutti ciao ciao